Siamo sempre alla ricerca di giovani talenti e Giorgio Schivel è veramente un talento speciale perché lavora a Los Angeles con un grande amore per il prodotto ed è questo che ci ha fatto collaborare con grande soddisfazione perché questo suo senso dell'artigianalità si sposa benissimo con noi e naturalmente poi ha un gusto, una sensibilità tutta americana, giovane, west coast che è un po' quello che siamo andati cercando Nella collezione Do Buonbo abbiamo lavorato su due temi principali uno è quello del lavaggio dove abbiamo preso le nostre scarpe tradizionali in colori non tanto tradizionali e le abbiamo veramente lavate con acqua e sapone ne viene fuori un prodotto che ha questo look un po' indossato un po' vintage che le rende veramente diverse l'altro tema è quello dei dettagli colorati quindi colori diciamo tutto sommato neutri però con questi inserimenti di colore che le rendono decisamente interessanti e nuove grazie 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 grazie